Veramente stupendo! Davvero un film che non vedevo da un po' di tempo. Magari tutti gli esordi possono essere così. È stato super intenso. Allora io mi sono emozionata. Avevo un po' le lacrime sulla scena finale. Non vedo l'ora di incontrarvi in giro per i cinema. E c'è l'opone qua in Italia!